buonasera a tutti io sono luca fiore questo è oggi in borsa l'esclusivo format di money.it realizzato in collaborazione con unicredit seduta di recupero per le borse europee dopo le forti vendite innescate ieri dalla variante inglese al covito 19 a favorire la risalita degli stini ci ha pensato anche l'approvazione del nuovo piano di aiuti a 900 miliardi di dollari negli stati uniti e l'avvio della campagna di vaccinazione in questo contesto il nostro funzimib ha chiuso a 21 844,33 punti più due punti percentuali rispetto al dato precedente spinto a rialzo dal più 5 18 per cento messo a segno da exor dal più 2 44 per cento di fiat chrysler all'indomani del via libera delle autorità europee alla fusione con peugeot bene anche i titoli del comparto bancario tra cui spicca il più 3 24 per cento del banco bpm e il più 2 26 per cento di biper e poco più sotto più 1 42 per cento per unicredit dopo il via libera del cda all'accordo di risoluzione consensuale del rapporto con jean pierre mustier secondo quanto riportato da milano finanza leonardo del vecchio starebbe cercando di accordarsi con le fondazioni bancarie per partecipare all'individuazione del nuovo top manager intanto da fine cobeca hanno fatto sapere che il numero uno non è interessato tra le performance migliori segnaliamo anche il più 2 e 74 per cento di enel mentre tra quelle peggiori si fa per dire vista la giornata decisamente positiva troviamo il meno 0 87 per cento di di assori nel meno 0 27 per cento di tenaris tra le sul completo segnaliamo il più 9 18 per cento di alerion il più 7 19 per cento di accotel e più 6 83 per cento di digital bros dietro la lavagna invece netwick meno 3 e 69 per cento cembre e beghelli tutte e due con contrazioni superiori ai tre punti percentuali dal fronte titolo di stato lo spread btp bund è poco mosso a 111 punti base mentre sul valutario l'euro dollaro passa di mano a 121 677 quindi meno 0 6 per cento rispetto al dato precedente da money.it per oggi è tutto l'appuntamento è a domani buona serata